Omba buongiorno a tutti da Sanremo Enzo Buongiorno a tutti quelli Allora diciamo che sul nostro pubbino ufficiale di Stato Instagram ai due abbiamo fatto un sondaggio La missione, la prima missione di Sanremo Andate a risponderci o mandateci delle idee qua Dai due, andate su Ragazzi allora il sondaggio è terminato È passata l'ora Enzo ha vinto il pubbio Ma quello regna sempre Io volevo dare il bacio alla unica No, no basta A chi lo facciamo fare? Vi vedecelo qua Direct Ormai è diventata una barbaceletta Vai Allora siamo qua con il maestro Maestro, ci faccio un attimo il piccione Così? Così, così faccio Faccio vedere Come faceva la canzone? Dovelo come fa un piccione La gana del paragone E' La gana dell'emozione Allora Stascio Abbiamo scelto te Anzi hanno scelto loro Stascio mi raccomando non fare cazzare Stasera vai sul palco E fai quel cazzo di piccione Fagli vedere Enzo Po che cadi devi fare il piccione Stascio fai una figura di merda Te lo dico Fai Enzo Fai della maniera Come lo fai stascio? Hai capito come si fa? Allora il piccione secondo me Cioè nella parte dove sto immaginando Perché ormai mi avrete obbligato Non si può fare una cosa tipo così Bravo Vedi che Non puoi una mano Non so più ecco l'ho viva il mio tormento è sempre tu la mia fortuna la forma è di un colore di ogni cosa vera sembra vicina e più leggera voli dire se non ha mai più voce parla con la mia allora abbiamo deciso di nominare tu che fai il fenomeno tra Lorenzo Bagliotti secondo me è pure figlio di Baglioni questo è raccomandato stasera devi fare il piccione tu e i coristi ragazzi siamo qua davanti all'hotel Lorenzo Baglioni in teoria Lorenzo poi ti tagliamo scendi giù ti facessimo vedere come è un congiuntivo basta adesso voglio dire io lo spito internazionalmente prendere il piccione vai stiamo a Sanremo stiamo a Sanremo oh oh un calazzo Lorenzo faggielo vedere com'è un piccione tutorial can you make it you make probably if I remember oh Shaggy I love you man un piccione un piccione make piccione Shaggy if it's possible tonight spend it on your exhibition you can make piccione please like this like this oh like already sold up the idea on ok